La tredicesima giornata mondiale dell'emofilia quest'anno in Italia è stata dedicata da Fedemo alla gestione del paziente emofilico in pronto soccorso. Le strategie terapeutiche per l'emofilia negli anni hanno subito una rivoluzione copernicana. Farmaci sempre più personalizzati, terapie geniche, opportunità per i pazienti per poter vivere una vita normale. L'emofilia è fra le poche discipline che ha iniziato in tempi non sospetti la cosiddetta logica della medicina di precisione o medicina personalizzata. Il nostro paziente viene da sempre gestito in modo molto individuale proprio perché le esigenze sono differenti e ovviamente i trattamenti a disposizione ci consentono di affrontare le esigenze di ciascuno. Negli ultimi diciamo 20 anni la storia dei nostri pazienti è cambiata completamente. Attualmente la vita media del paziente emofilico è passata da 38-40 anni a 74 anni, il che ci dice che cosa realmente è cambiato. I bambini emofilici riescono ad essere perfettamente inseriti nel proprio ambiente scolastico e a condurre una vita assolutamente normale a partecipare agli sport assieme con tutti i propri compagni di scuola. Gli pazienti emofilici adulti sono inseriti nel mondo del lavoro, della produzione, dello sport. Quindi è veramente opera della grande innovazione che c'è stata nella terapia rendere questi pazienti non più pazienti gravi come erano fino agli anni 60-80 in Italia. Le grandi innovazioni alle quali andiamo incontro oggi sono da un lato i farmaci a vita media prolungata o a vita media più lunga in generale. Così questo servirà oggi a non avere più la necessità di dover intervenire più volte al giorno nei nostri pazienti o meglio più volte alla settimana nel trattarli. Farmaci a vita media più lunga ci consentiranno due sole somministrazioni la settimana e in alcuni casi due somministrazioni ogni 15 giorni a seconda che si tratti di emofilia A o di emofilia B rispettivamente. E questo naturalmente sta cambiando moltissimo le aspettative di vita, le possibilità. Cambia il quadro clinico di questi pazienti, cambia la loro vita. E nel frattempo la terapia genica avanza. Nell'emofilia B la terapia genica ormai è una realtà. Quello che si è riuscito ad ottenere nel gruppo dei colleghi di Philadelphia, dove il numero di pazienti trattati è adesso piuttosto alto, di avere concentrazioni circolanti superiori al 30% di fattore nono dopo singola somministrazione di un prodotto. Siamo ad un'osservazione a sei anni a questo punto e la guarigione di questi pazienti. Ovviamente c'è una serie di problemi, c'è una serie di difficoltà, ma è chiaro che l'emofilia nel giro dei prossimi anni sarà probabilmente la prima malattia genica ad essere stata curata con terapia genica. È una rivoluzione nel nostro campo.